Si deve subito risettare la testa, abbiamo già pensato troppo a questa finale scudetto persa, purtroppo è stato un passo falso, però comunque abbiamo la fortuna che tra cinque giorni torneremo già di nuovo in Vasca per l'obiettivo quello forse più grande della stagione. Abbiamo una squadra nuova perché abbiamo due giocatori, due stranieri in più rispetto alla squadra di campionato, l'obiettivo è molto più grande perché questa Champions manca qui a Recco da parecchi anni, quindi la fame c'è. Una partita simile a quella di due anni fa, comunque loro sono un'ottima squadra, non da sottovalutare, con giocatori molto importanti, tiratori molto forti, due centri di alto livello, un portiere della nazionale, quindi la squadra non da sottovalutare, sarà una partita combattuta e si deciderà secondo me alla fine. Ma chi pensa che siamo morti si sbaglia, si sbaglia perché abbiamo ancora tanta fame, voglia di dimostrare quanto valiamo e vogliamo raggiungere questo obiettivo.